Buongiorno, ben trovati, torna in campo oggi l'Italia di Conte, grande entusiasmo a Palermo per la nazionale che sfida la Zerba e Gianna. Vedo già pronto il collegamento da Palermo con Simone Margutti, ben trovato Simone, e sono molti i temi che affronteremo oggi, in grado piano l'intervista shock di Muntari che entra nel vivo della polemica di Munti Strona e poi lavori in cui...